Il consigliere regionale del Partito Democratico, Michele Mazzarano, fa sapere che la Regione Puglia ha stanziato 10 milioni di euro prelevati dal piano di azione e coesione per l'immediato potenziamento delle attrezzature e delle strutture sanitarie per far fronte all'emergenza coronavirus e li ha assegnati alla protezione civile. Il governo emiliano, prosegue Mazzarano, ha autorizzato tutti gli ospedali Covid a utilizzare il medicinale con il principio attivo fornito gratuitamente dalla Roche per il trattamento della polmonite da coronavirus. La Regione Puglia sta autorizzando tutti gli ospedali Covid all'utilizzo del Tocilizumab, il farmaco contro l'artrite reumatoide che sta dando grandi risultati sui pazienti Covid e anche a Taranto ci sono dei risultati soprattutto sui pazienti in rianimazione che sono risultati incoraggianti. Si fa fronte a tutte le situazioni di criticità, di emergenza, alle carenze, in modo particolare quello che riguarda le attrezzature delle strutture sanitarie. Ieri la Regione ha stanziato 10 milioni di euro prelevandole dal piano di azione e coesione e destinandole alla protezione civile per tutte le emergenze in questo campo. Ieri la Regione ha stanziato 10 milioni di euro.